Sabato inizierà la seconda parte del raduno del Pescara. La squadra si radunerà in mattinata al convitto Casa d'Annunzio per poi partire alla volta del centro del Sangro Aventino, dove lavorerà fino a sabato 5 agosto, quando il Delfino lascerà Palena, ed il giorno dopo farà il debutto ufficiale stagionale all'Atletico Cornacchia per il secondo turno di Team Cup contro la vincente di Arezzo Triestina. Il numero è l'optimum del boemo, ma sarà difficile arrivarci. Resta comunque grande curiosità per capire se ci saranno degli esclusi nella lista di Palena e quali saranno, anche perché è difficile che nelle prossime ore si materializzino cessioni ufficiali. Il lavorio però prosegue. L'Erian Memuschiai è sempre nel mirino del Sion e da giorni si attende l'affondo definitivo. La Sampdoria, dopo aver mostrato interesse verso Benelì in un precedente summit, potrebbe tornare alla carica. Il calciatore anglo-libico è uno dei pezzi pregiati in uscita e l'operazione con il club di Ferrero potrebbe essere più ampia, qualora venga inserito anche il terzino Cristiano Biraghi, che nei giorni scorsi era stato nuovamente accostato al Chievo. Sostanzialmente chiuso l'accordo con il Carpi per Davide Vittorini, che approderà in terra emiliana con la formula del prestito con diritto di riscatto e contro il riscatto. Manca solo l'ufficialità, come anche per la gestione alla Pro Vercelli dell'attaccante Alessandro Polidori, così come prossimo anche l'addio ufficiale di Guglielmo Stendardo, per cui si prospetta un'esperienza professionale in Qatar. Restano da definire anche le posizioni di Zampano, altro potenziale fiore all'occhiello sul fronte delle uscite, di Bovo, che aspetta una chiamata dalla Serie A, e Rossi. Uscite che, oltre a sfoltire il gruppo, libereranno posti per qualche altra entrata. A Palena inizierà a lavorare con i compagni Ugo Campagnaro, sfumato Roberto Insigne, il Pescara monitora le piste Massimiliano Gatto del Chievo e Carlos Embalo del Palermo. Per la difesa c'è un accordo di massima con l'ex capitano Antonio Balzano, che freme per lasciare il Cagliari e tornerà a giocare in rival adriatico.